Ma come sta andando il copy trading all'interno della piattaforma di FPMarket? All'incirca 8 giorni fa ho realizzato un contenuto dove vi annunciavo che andavo a seguire diverse strategie di copy trading che avevano avuto delle performance davvero molto molto grandi in passato e poiché anche un mio amico ci ha investito una cifra a parer mio molto elevata, più di 10.000€ dopo andremo a vedere anche il suo conto ho deciso di investire una cifra che sono disposto a perdere per realizzare semplicemente dei contenuti di intrattenimento dove vado a copiare queste strategie che in passato hanno avuto performance incredibili infatti questa strategia è realizzato un più 18.000% da quando è online è uno storico comunque abbastanza interessante di 526 giorni per andare ad analizzare insieme cosa realmente potrebbe accadere e quanti soldi si potrebbero riuscire a guadagnare ho anche messo questo conto all'interno di MyFXbook e insieme andremo ad analizzare i profitti e le perdite che stiamo magari avendo nel corso del tempo ovviamente questa è una cifra che sono disposto a perdere infatti ci tengo a specificare che questo non è assolutamente un consiglio di investimento è solamente un contenuto di intrattenimento che sono andato a realizzare perché ragazzi questi soldi possono essere bruciati e per questo vi invito a non replicare quello che vado a fare io perché è molto rischioso poi se siete consapevoli anche del rischio a voi la scelta io ovviamente sto realizzando un contenuto di intrattenimento come vi stavo dicendo la piattaforma che sto andando ad utilizzare per fare copy trading la piattaforma di FPMarket o eventualmente se state cercando un broker per fare trading regolamentato Consob con bassissime commissioni vi lascio comunque FPMarket in descrizione nella sezione di FPMarket troviamo questa sezione qui ossia social trading e ragazzi sotto consiglio appunto di un mio amico che ci ha investito una cifra a parer mio ripeto molto molto elevata per un copy trading ho deciso di andare a copiare anche io questa persona per realizzare un contenuto di intrattenimento infatti dopo ho delle richieste da farvi la persona che sono andato a copiare in questo momento è posizionata secondo in classifica si chiama Nacho Trade nello scorso contenuto ragazzi ed era anche per questo che mi saliva il dubbio durante la settimana non era apparso che qui abbiamo avuto un massimo drawdown del 51% perché poiché questo servizio di copy trading fa effettivamente dei profitti molto elevati era quasi impossibile che potesse avere un massimo drawdown del 6% perché nello scorso contenuto penso che la piattaforma si era buggata però in questo momento possiamo vedere che effettivamente il massimo drawdown che abbiamo avuto è del 51% e se visualizziamo abbiamo anche questa giornata qui dove abbiamo perso abbastanza e tutto sommato il copy trading per adesso sta andando abbastanza bene se visualizziamo come si è comportato nel corso del tempo perché qui abbiamo appunto un'operatività di 526 giorni e raga io comunque posso solamente dire che questo bot perché alla fine si parla di un expert advisor che sta utilizzando questa persona è davvero tanta tanta roba per il momento poi vi ripeto si tratta comunque di una strategia abbastanza rischiosa perché abbiamo avuto un massimo drawdown del 51% e io ci vado ad investire una cifra che sono disposto a perdere però posso dire che tutto sommato questo mese qui sta facendo delle performance molto molto elevate infatti adesso voglio andare a condividere quello che è il mio conto poi mi raccomando restate incollati perché dopo una richiesta da farvi se andiamo a visualizzare ho deciso di mettere il conto all'interno di MyFXbook perché abbiamo la possibilità di vedere effettivamente come si sta comportando nel corso del tempo per adesso possiamo vedere che abbiamo fatto per un totale in solamente 10 giorni un gain del 11% quindi abbiamo fatto comunque un profitto molto molto elevato sul nostro capitale in solamente più o meno 8 giorni di operatività, 7 giorni se visualizziamo il balance è questo abbiamo totalizzato di profitto in un giorno 3€, in un giorno 7,90€ 5,30€, 11€, 6€, 3€ e 3,90€ ora qualcuno sarà dicendo si tu comunque stai facendo un video per 3€ di profitto raga innanzitutto bisogna andare a considerare che abbiamo investito 390€ e abbiamo fatto un 11% quindi un profitto totale di 40€ quindi non stiamo parlando assolutamente di noccioline su un capitale così piccolo infatti se vediamo il conto del mio amico che ripeto ragazzi ha voluto prendersi un rischio molto molto alto secondo il mio parere perché ha investito 10.000€ in questa strategia possiamo vedere che in un mese gli ha totalizzato il 40% del conto e possiamo vedere che questo è il capitale totale il bot in questo caso io sto andando a visualizzare un po' come opera perché effettivamente dentro la piattaforma di fp se noi andiamo a visualizzare non abbiamo la possibilità di capire realmente che tipologia di operatività ha questo bot abbiamo visto queste grandissime performance però effettivamente non so come vado ad operare e io ho ipotizzato che vado ad operare con una sorta di martingala in edging perché apre sia dei sell e sia dei buy contemporaneamente e nonostante tutto comunque sta andando a realizzare ottimi profitti questa settimana con il suo conto lui ha totalizzato più di 1000€ però raga vi ripeto questa persona ha investito una cifra molto elevata e soprattutto si sta prendendo un rischio molto elevato per lui 10.000€ non sono nulla potrebbe bruciarli non gli cambia la vita ed è anche quello che effettivamente sono andato ad investire io una cifra che sono disposto a bruciare anche perché da chi studia trading ogni singolo giorno sa benissimo che effettivamente non è la strada giusta andare a fare copy trading però è un contenuto di intrattenimento detto questo ragazzi per quanto riguarda il drawdown in totale abbiamo avuto un drawdown massimo del 5% in questo momento quindi ho visto il conto avere un drawdown di 30€ mentre sul capitale del mio amico ha avuto un drawdown più o meno di 800€ questa settimana però tutto sommato comunque ha fatto ottimi profitti e ha chiuso tutto in positivo io ovviamente quello che sto pensando ragazzi è che questo ha un bot che comunque opera in modo eccezionale nonostante abbia avuto un 51% di drawdown però io vorrei andare a realizzare un qualcosa del genere infatti quello che sto facendo ultimamente è studiare anche programmazione di expert advisor sto studiando il linguaggio di MT4 è un qualcosa di abbastanza difficile però vorrei riuscire a creare un bot di trading con le mie mani perché è un argomento molto molto affascinante vi ripeto ragazzi questa è una cifra che io sono disposto a bruciare mi raccomando fate la massima attenzione non fatevi prendere dall'euforia perché è vero che abbiamo questi risultati molto molto positivi però comunque bisogna andare a considerare che questi risultati così elevati sono sintomo di grande esposizione al mercato quindi per adesso è andato bene sta andando una bomba però non possiamo mai sapere se domani potrebbe bruciare anche tutto il conto perché è vero che abbiamo uno storico di 500 giorni ma effettivamente non so chi c'è dietro questa strategia e che tipologia di operatività va ad utilizzare nell'effettivo anche se chi ha un expert advisor a prescindere non ti verrebbe a dire la strategia esatta perché tu lo andrai a replicare detto questo ragazzi da poco ho visto anche che all'interno della piattaforma di AvaTrade che è un altro broker regolamentato Consob di cui vi lascio il link in descrizione qualora vorresti andarlo ad utilizzare per fare trading perché possiamo anche andare a tradare il mercato dei futures ho notato che ci sono diverse strategie di copy trading sempre di expert advisor sempre rischiose ovviamente che comunque hanno totalizzato ottimi risultati e possiamo vedere che questa strategia ad esempio ha avuto un massimo drawdown del 51% quindi questo è il nome che potete trovare qui e tutto sommato ha totalizzato un rendimento totale del 9000% però possiamo vedere che abbiamo anche un drawdown di 1650 euro quindi considerando che ha un capitale di 29000 euro ci potrebbe stare tranquillamente però questa ovviamente è una prima strategia di copy trading che sono andato a visualizzare dove attualmente ci sono 2000 persone in copia però raga vi ripeto queste strategie sono super super rischiose come anche quella di Nashotrade effettivamente c'è anche quest'altra strategia dove è totalizzato nonostante tutto un profitto del 4000% quindi abbiamo un più 16000 dollari di profit e abbiamo un massimo drawdown del 18% il nome è sempre questo e abbiamo 1700 persone in copia quindi queste sono alcune delle strategie fatemi sapere nei commenti quale dovrei andare a copiare scrivete semplicemente il nome e in base ai commenti magari deciderò di realizzarci qualche altro contenuto detto questo ragazzi per adesso sta andando bene speriamo che non bruciamo il conto fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento io vi saluto e noi ci vedremo nel prossimo video ciao ciao